Benvenuti in questo nuovo video, in questo oggi andremo a vedere alcuni degli oggetti più costosi al mondo Quando si parla di cose super mega costose, è sempre interessante perché sei sempre curioso di vedere le cose che esistono Cosa c'è, cosa non c'è, come la gente spende i soldi Quindi oggi... Facili affari degli altri, giudicare le altre persone che spendono i propri soldi Quindi non si sa perché dovremmo dare il nostro giudizio, che a loro non ne frega nulla Ma è la cosa che la gente preferisce fare su Facebook e su Instagram, quindi lo facciamo anche noi su YouTube Non c'è bisogno di fare polemica, cioè io volevo farla... No, io volevo fare la polemica di chi fa la polemica Sì Avete i vostri soldi, fatevi una vita con i vostri soldi, non giudicate chi spende gli altri soldi Se uno si vuole comprare le scarpe a 50.000 euro, se se le compra, saranno inutili Tanto ce li ha lui, non ce li avete voi Basta È finito Io non sopporto più il mondo Sì, ma mi fai parlare Non li sopporto più No, non li, ti giuro Non è senso del libro La gente li devono togliere le cose dove scrive Non sento che ti lamenti, ok? No, no, io mi lamento Ok Io mi lamento la gente che si lamenta Questo è tendenza contro tendenza Sì È pazzo ragazzi Sì, volevo iniziare il libro Non mi puoi bloccare Non mi puoi bloccare Sto cercando di tirare da 15 minuti facendo la battuta Quindi oggi vi faremo sentire poveri in mille modi diversi Sai che si dice sempre Ma è tristissima Ma meno male che ho fatto la mia parte perché, cioè, ritirala proprio Ma cancelliamola No, è la classica battuta che si fa Te la censura e metto un'altra battuta sopra Un uomo entra in un caffè splash Imbarazzante Vogliamo iniziare Non critico anche a te che altrimenti guarda Allora, partiamo con uno super yacht da 400 milioni di dollari Jeff Bezos Ah, è quello di Jeff Bezos Quello che deve rompere il ponte per passare in Olanda Sì, 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 non lo sapevi? No, non lo sapevo Ah, è una figata Quare polemiche su polemiche Ok Ha creato il Titanic Verso la yacht Ma porca miseria Ok Cioè, ci sta l'elicottero Guarda la piscina No, no, l'elicottero nell'elicottero in realtà è abbastanza normale Capita spesso Si può giocare a pallanuoto Evidentemente Non stiamo ascoltando quello che ci dice la persona Ah, forse che la piscina è talmente grande che ci gioca a pallanuoto Esatto Bello questo vetro così È bellissimo Eh, beh No, è bellissimo Ci sta Ok, ok Qua è un appartamento Cioè, sembra una casa, esatto Anche perché adesso qua Dai, ma perché non mi dite le unità di misura normali E non quelle americane così capiamo Sei cu, Fere Sei cu Dicevo Chissà se ti rendi conto di essere in mezzo al mare quando stai qua Secondo me no Secondo me ancora sì Poi dipende Magari se c'è il mare mosso e uscilla allora sì Però porca miseria te lo fa sentire molto meno Sì Comunque praticamente l'hanno costruito mi pare in Olanda Ok Per farlo arrivare perché l'hanno costruito in un porto che sta su un fiume tipo Per farlo arrivare in mare aperto Ok Hanno dovuto smontare un ponte tipo antico Ma no E far passare lo yacht e poi rimontarlo No, beh, questo non si E qui c'ha tutta gente Ah Distrugga la storia Per quello Per quello No, beh, questa è un po' una cosa discutibile Però qui dobbiamo solo vedere le cose costruito Non stiamo giudicando Non giudichiamo il resto Che ho preso, sta schifando Ok Allora Una serie da 14.000 dollari Sai cos'è fatta? Di pecora No No, di alpaca Eh, è fatta col pollo di spettacolo No Ma per quello costa così tanto? Non so perché C'erano anche 1.000 dollari di spedizione Perché hanno detto Beh, ormai Tanto costa 14 Ce li abboniamo Un millino lo mettiamo Allora, ovviamente non spendere mai così tanti soldi per una sedia No, no, ma in generale Cioè, è bello Facciamo che c'hai anche i soldi Ma fa schifo No, allora Io la reputo brutta È carina Però se me la facessi magari in pelle Cioè, non in pelle In pelliccia sintetica Non penso che mi renderei tanto conto della differenza Perché A me non piace A me non piace Però Abbastanza inutile questo Secondo me No, no, ma in un no Ho capelli in faccia Quindi non riesco a guardare Dimmi, dimmi No, niente Cosa volevi dire? Niente, niente Allora, questo praticamente È un formato che va su TikTok Ma il solito la gente lo fa Con le auto da corsa Quindi con le supercari È finissimo Eccetera In pratica Fermi la gente per strada Con un tipo Vedi uno con la Ferrari Gli chiedi Ehi, che lavoro fai per avere questa Ferrari? Eh no La gente dice Spaccio Perché si sentono simpatici Poi in realtà No, no, qui dicono davvero i lavori Ok, sì Quindi qua va in un posto In una zona di yacht Di superlustro Io lo vorrei sapere Così magari sono anche propensa A cambiare lavoro Ok, dai, è youtuber Non penso proprio Americano e non italiano Eh, esatto Allora, 13-15 milioni È il range di yacht Ok Uno chef Come fai? Come, come fai? Allora, probabilmente però Ha tanti ristoranti Perché alla fine della fiera Allo chef Guadagna quando diventa Tendenzialmente imprenditore Esatto Quando ha un nome Non c'è detto il nome Siamo sui 4 milioni Ok Ah, è anche lì riconosciuto Boting industry Ah, vabbè Quindi fa quello di lavoro Cioè vende Vende affitta barche Sicuramente barche costose Ok E gli ha detto appunto Che costano circa 4 milioni di dollari L'hanno pure fatto salire Figata Che figata che sono Io non amo gli yacht Io amo gli yacht Perché non mi piace il mare Però non so se anche a Vendisoli Me ne comprerai mai uno Perché ho paura Cioè non amo stare in mezzo al mare Allora, questo è da Poracci 2006 Technology company Ok Ma che Poracci Che belli però Che belli Ci sta Ci sta Ci sta Mi piace il più quello con le auto Come format Ah, ok È più divertente Allora Questo è Qua siamo a Disneyland Ed è nettamente la cosa più costosa Che puoi trovare a Disneyland 250 milioni di dollari Mi è sembrato di vedere dal prezzo Sicura che erano milioni? No, 250 mila dollari Ho detto milioni Scusami, sono deficiente Aspetta 250 mila Conta gli zeri? Sì, è 250 mila No, ho sbagliato io Ho pensato mila Ho detto milioni Sono scema Perché mi pare che sia fatto Totalmente in cristalli Veri Di sbarosco Boh, roba è così No, so, ragazzi Bello Bel castello È bello Ma non spenderei 250 mila dollari No, vabbè Ma è lì per guardarlo Altrimenti qualcuno Avrebbe già comprato No, no, è vendita È vendita Ce lo puoi comprare Certo, ce l'ha al prezzo Nessuno lo sa Comprate Ce l'ha al prezzo Quindi lo puoi comprare Ok, ok Questo, Steph Guarda, guarda È il sogno della mia vita Costo un miliardo Ah, l'avevo sentito Questo tipo è matto È matto Come un cavallo No, ma non solo per il palazzo Lo sentite un po' di storia Di sto qua C'è un giro Altro che il ponte smontato Guarda, lasciamo stare Però Lo fanno vedere un pochino Sì Ci sono 4 persone che vivono Guarda dentro C'è, c'è Ok È bellissimo Vedi, questo video mi ha fatto capire Che mi serve almeno un miliardo Nella vita 10-20 piani Solo per i parcheggi delle auto Ok Oddio, forse è un po' troppo Persone, 4 persone Capisci C'è, 4 Beh, ci arriveranno in 50 Per lavorarci In realtà Eh, beh, sì Quindi poi 50 persone Ovviamente di staff Però figata Figata, bello Allora Mi piace giusto l'idea Di poter avere tutto quello Che ti piace dentro casa Per non uscire di casa Per non uscire di casa Non incontri mai più le persone Ok Qua non è una bella idea Allora Qua abbiamo poi un sito Che fa vedere alcune delle cose più costose Come fa a valere 4 miliardi e mezzo? Leggilo, non lo so Most expensive yacht Stuart Uggers Un famoso designer Blah 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 Ragazzi ve lo traduco Che staff davvero Blah 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 È stato disegnato Quindi progettato Da un famoso designer inglese E allora Vediamo Cioè ma guarda le scemenze Sì Di metalli preziosi Di metalli preziosi Tra cui l'oro Blah 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 L'oro Il platino Vabbè Vabbè Anche qua È un po' la scemenza Hanno dovuto spendirli così E li hanno spesi così i soldi Ecco che ci vogliamo fare Secondo posto Quello che abbiamo appena visto È veramente bello È bello Esteticamente è proprio bello Non so cosa abbia combinato Per costruirlo ragazzi Magari ha fatto disastri Su disastri Però devo dire Che è molto bello Come progetto È bellissimo Eh no L'architetto Perché l'ha fatto Esatto Porca miseria Molto molto bello Allora Una Ferrari Del 1963 52 milioni costa Sì Di dollari Porca miseria Ok Io Le auto d'epoca Allora A me piacciono Ma da vedere Cioè ad esempio Anche se avessi Milioni da buttare Non penso che me la comprare No no ma se dovessi diritto In prezzo per me vale 20.000 euro Qualcuno probabilmente qui È morto È morto È venuto Ma per il mio gusto Vale 20.000 euro Vabbè perché lì Alla fine queste auto Le prendi più per collezionismo Quindi se ti piace Collezionismo La storia Gusto estetico Tante cose Se ti piace appunto Collezionarle alla fine Infatti non l'ho pagata Io 52 milioni Poi Abbiamo Un quadro Card players Ok Di chi è? Allora Di Paul Ah Paul Cezanne Ok Ok Sì 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 Cioè almeno di nome Non hai chiesto tutta la storia Ok vabbè Sono di Altani of Qatar Quindi vabbè Ecco perché hanno speso così tanto Per il quadro Non mi sorprende Venivamente Non mi fa impazzire Però l'arte Non la giudico mai Perché non ne capisco Una mazza Vorrei capirne qualcosa Ma non ne capisco Una mazza Qui abbiamo Il perfect pink 23 milioni di dollari Che bello È bello Cioè è totalmente inutile Non ti fai nulla Ma è bello Oggettivamente Non lo indosserei mai Non mi piacciono Le pietre così giganti Però Cioè Posso dirlo È proprio il rispetto Capito Per me sono un po' pacchiani Questi gioielli Così esageratamente grandi Inquadri la gente E la gente sviene Eh ci credo Hai capito O ti tagliano la mano È poterità E questa è una delle gemelità Non si in realtà Esatto Vedi 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 Allora Ok È un parcheggio Cioè tu praticamente Sei quando ti compri un parcheggio Quindi un posto Dove mettere la tua Essendo ammanata Anche non ci sono parcheggi Cioè ma fai prima Comprarti una casa E mettere l'auto lì dentro Un milione di dollari Solo per un posto In un parcheggio E tra l'altro è bruttissimo Aggiungerei È un parcheggio Sembra che tra un po' Crollano le auto sopra Ma è un parcheggio Poi Perché vale 10.000 dollari La feather Non mi viene in italiano La piuma Dello Hoia Bird Boh non lo so Ah La presenta l'amicizia e il rispetto No vabbè perché si è estinto Da più di cent'anni Ah Eh vabbè Cioè anzi da centinaia di anni Sì sì E quindi sono rimaste alcune di queste piume E quindi valgono tantissimo Perché non ce ne sono più Io non ho mai capito Il valore È dato una cosa che non c'è più Cioè è una piuma Se vado a prendere la piuma di un piccione È uguale È uguale E quindi Mi prende la piuma di un piccione O di un gabbiano Poi abbiamo Diamond Panther bracelet Quindi un bracciale 12,4 milioni di dollari Vabbè qua perché ci sono più diamanti Di non so che cosa Sì ci sono diamanti Poi leggo anche Edoardo VIII Quindi c'è anche una parte storica Molto brutto Molto brutto Cioè se lo penso messo al polso Molto brutto Facchiamo parte 2 Non me lo metterai mai Ok Abbiamo un altro dipinto 104 milioni di dollari Ok Ah qua è Picasso Io allora Picasso Ho presenti tutti gli altri Quelli un po' più strano L'evoluzione Esatto Perché infatti qua aveva 24 anni Però lui in realtà era un artista Che spaziava tantissimo Ogni due anni cambiava Cambiava esatto Un sacco di generi Di pittura Non so come si può dire ragazzi Scusatemi non sono esperta Quindi so cose un po' così Sinceramente non sapevo fosse suo Né anch'io Minimamente proprio Una fotografia Perché vale 4,3 milioni di dollari Perché è bellissima Vabbè Rappresenta la vera relazione Dell'uomo con la natura Quindi vale 4 Non lo capisco Non lo vedo però è figa Vabbè evidentemente è un artista Che ha un nome molto importante Quindi è per qua Che è bello Allora questo è un orologio Allora sì È un orologio da 201 carati 25 milioni di dollari E non riesci niente a leggere l'ora Aspetta Allora l'orologio è questo E questo è il quadrante Dove leggi l'ora E questo è tutto il bracciane Sì che al fine è un bracciane Capito Pacchiamo parte 3 Sì no 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 Allora a me la gelielleria piace Quando è molto fina E molto delicata Quando sono queste cose enormi Che dicono Ehi guardami Sono pieno di soldi Quindi tu invece sei un povero Inutile No Non ha senso Se tu metti qua Per la gente così la stendi Poi abbiamo Una Bugatti 10 milioni di dollari 10 milioni di dollari Perché esatto Placcata penso in oro Bella Carina Cioè boh Non la pagherei 10 milioni di dollari Quindi quel palazzo Che abbiamo visto prima in India Ok Quello è il primo Questa è la seconda Interessante Gigantesca comunque Ma perché lo squalo morto Costa 12 milioni Ma perché Perché probabilmente È di qualcosa Non ho voglia di leggere la storia Ma vabbè Non ci ho sbatto Uno squalo morto Fine Allora Ok Quanto vale 16 milioni Un dominio Quindi c'è il Punto com E qui quando capita Che tu compri dei nomi Che poi all'azienda Servono per forza Assolutamente Per proprio Necessità assoluta Tu l'hai pagato 5 dollari E poi lo rivendi a 16 milioni Che è il motivo per cui Da quel momento in poi L'azienda ha iniziato a comprare I domini Di qualunque tipo A caso Per poi rivenderle Quindi è diventata poi Quasi una professione Allora L'esto magnetico Che fluttua Bello Però un milione e mezzo No no Mi serve Perché comunque Mi piacebbe Dormire fluttuando Io spero che sia Incredibilmente comodo No 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 Io sento questa necessità Dormire su milione Cioè Allora Pienoforte di cristallo Devo dirti che onestamente Ci sono dei pianoforti Meravigliosi E questo non fa parte Che magari costano anche Tipo 5 mila dollari Quindi questo 3 milioni e 2 Che è tantissimo Sì Non lo reputo bello esteticamente Non lo so Chi è? Non lo so Chi è Steph Stiamo aspettando pachi? No Allora non scendo Allora Saffron Ma è il zafferano? Esatto Zafferano Ok 11 dollari per grammo Perché sì Costosissimo Effettivamente Quello che vende al supermercato È solo Sto solo pensando Qualcosa che ha un aroma Mentre invece quello puro Costa più del tartufo Per grammo Mi sa di sì E beh se l'hanno messo Comunque in questa classifica Sì sì no Il prezzo è folle Sarei curioso di assaggiare Il vero risotto zafferano Con questo Per dire Non cambia nulla Probabilmente Cioè sarebbe una soddisfazione Alla fine Non cambia nulla È un male con il supermercato A 90 centri Però Se 11 dollari per grammo Quanti grammi ne servono Per avere un buon sapore di zafferano? Non lo so Non ho idea Ed è per noi Guarda se non è per noi Io lo insulto Chiunque sia Si è fatto un nemico Per tutta la vita iPhone 3GS Blah 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 Insomma diamanti Nell'iPhone Per quanto No Non ne vale la pena Serve solo A farlo pesare di più Sì ma poi Comunque un telefono Vale quello che vale Che senso ha Riempirlo Di gioielli Così Sbri luccica E dopo di che Guarda sinceramente La cosa più bella che ho visto Stavo per dire Questa è molto bella Questa è bella Tra tutti i gioielli Che avevo visto Esagerati Poi oddio 55 milioni Però è bellissima Almeno è bella Cioè se tipo trovassi La versione Metti che costa molto Di wish No vabbè Però è sempre fatta bene La indosserei Cioè questa comunque Così la indosserei È molto bella Molto bella Va messa con Con il giusto abito Sicuramente Però è bella Per mettere con una felpa Però ok Molto bella Quindi abbiamo visto gente che spende soldi Mi raccomando Una cosa importante Non diventate le persone Che giudicano gli altri Come spendere i soldi Perché voi li spendete in un modo E le altre spendono in altri in modo Ma ci sta Ti lascia vivere Se sono vostri i soldi Li giudicate E gli date anche due schiafi Se sono soldi loro Non me ne frega nulla E a parte gli scherzi Fateci sapere L'oggetto che vi è piaciuto di più A me A parte la collana A parte la collana Il palazzo Il palazzo Sì vabbè Palazzo in India A Maniparte No io l'ho sempre detto Il debole per le case Esageratamente di lusso Ne guardo tantissime Anche se non me la potrò mai permettere Quindi come l'ho visto Ho detto Ah è il mio sogno proibito Quel palazzo Bellissimo Vincia assolutamente Noi ci fermiamo così E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao